Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 un chilometro di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e la variante di Valico in direzione Bologna per un incidente. Sulla FIPI League, a causa di una perdita di carico avvenuta allo svincolo di Empoli Ovest provenendo da Firenze, l'uscita è stata chiusa. In direzione Firenze ci sono rallentamenti per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli e tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. In A12 il controllo della velocità tra Cole Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sulla statale 64 Porrettana ha chiuso una corsia per lavori tra Bella Valle e Pavana Pistoiese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Con questo è tutto, vi auguriamo un buon viaggio.